si dice comunemente che l'esistenza dell'uomo è breve e piena di fastidi fra tutte le vicissitudini che ci opprimono nessuna ci colpisce di più della perdita della salute ci rassegniamo senza eccessiva fatica a perdere del denaro e a vedere scomparire i nostri amici ma quando la salute viene a mancarci e quando la morte ci minaccia anche le persone più coraggiose si lasciano abbattere consci della nostra debolezza ci sentiamo impotenti ci rivolgiamo allora alla forza divina per ottenere soccorso è per questo che la funzione di una spirituale è sempre più o meno legata al potere di guarigione fra i primitivi selvaggi il prete aveva anche la funzione di guaritore nell'antica grecia coloro che erano ammalati si rivolgevano in particolar modo ad esculapio anche la chiesa ha seguito questo esempio alcuni ordini cattolici si sono prefissi il compito nei secoli scorsi di alleviare la sofferenza in tutte le sue manifestazioni e lo stesso succede oggi in occasione di epidemia il buon padre visitava gli ammalati in qualità di rappresentante del nostro padre celeste se era veramente un buon e degno prete egli rimpiazzava la scienza di cui difettava con l'amore con la solidarietà e con la fede che trasmetteva i malati le cure che gli prodigava non cominciavano al capezzale e non terminavano con la guarigione la riconoscenza del malato verso il medico si aggiungeva alla venerazione per il consigliere spirituale il potere che un tempo aveva il prete di soccorrere i malati e di dare il sollievo creava fra di essi un solido legame più stretto di quello che sarebbe stato se il medico dell'anima o quello del corpo fossero state due persone diverse è evidente che la la scienza medica ha fatto notevoli progressi frutto di lunghe pazienti ricerche l'applicazione delle leggi sanitarie la distruzione degli insetti responsabili delle malattie infettive testimoniano magistralmente il valore dei moderni metodi scientifici sembra dunque che tutto sia perfetto e che qualsiasi altro sforzo sia superfluo però fino a quando l'umanità nel suo assieme non godrà di una salute perfetta nessun problema esigerà una soluzione più urgente delle seguente come ottenere una buona salute duratura come conservarla oltre alla medicina ufficiale che si serve esclusivamente di mezzi materiali per guarire malati vi sono altri sistemi basati sul potere mentale questi sistemi sono adottati da alcuni centri che preconizzano il trattamento col pensiero trattamento naturalistico e che organizzano riunioni in cui partecipanti vengono chiamati a testimoniare in pubblico la guarigione che hanno ottenuto tramite questi procedimenti se i medici ortodossi facessero altrettanto non mancherebbero analoghe testimonianze l'opinione della massa è molto importante ma non prova a nulla in quanto un medesimo numero di persone potrebbero sostenere opinioni divergenti può capitare che il singolo abbia ragione e che la maggioranza abbia torto fu il caso di galileo il quale fu perseguitato per avere fermamente sostenuto il moto di rotazione della terra oggi tutti condividono l'idea per la quale l'illustre astronomo è stato perseguitato come eretico noi sosteniamo che l'uomo essendo un essere complesso ottiene la guarigione proporzionalmente alle cure che gli vengono praticate sia sul piano fisico sia sul piano mentale o morale o comunque in entrambi i casi